Ci sono voluti dieci anni per un suo ritorno sul grande schermo, ma finalmente è arrivato il film che tutti aspettavamo. Walter Hill, acclamato e premiato maestro di cinema di genere, torna nella città di New Orleans dirigendo un attore che di film di genere, ma soprattutto di action, se ne intende, Sylvester Stallone. Lui in mano a Hill diventa come una Ferrari in mano ad un pilota professionista, ed il risultato di questa sinergia è Jimmy Bobo, un thriller metropolitano che ha tutti gli ingredienti giusti per diventare un cult. Due rivali, un poliziotto e un sicario di professione, decidono di allearsi per trovare la scena di assassino che ha ucciso i rispettivi partner. Non ti lascerò fare una carnettigina! Noi abbiamo una cosina da sistemare. Un film da non perdere, Jimmy Bobo, che in un crescendo di violenza, humor e scene cult, conquista lo spettatore risvegliando a suon di cazzotti e pistolettate l'amore nei confronti di un genere che negli ultimi anni si è afflusciato su se stesso, stupendoci con troppi effetti speciali, senza mai farci innamorare dei personaggi. Bang, steso, preso.